benvenuti in make up lover oggi vediamo alcune novità di kiko della nuova collezione io ho preso solo un pezzo perché era veramente costosa fatemi sapere nei commenti se anche per voi sono molto 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 aumentati i prezzi ma qualità ne vogliamo parlare scopriamolo subito io ho iniziato con questa palette la precious ritual come potete vedere ha un cartel rilievo dura 12 mesi è un prodotto vegano e ho preso solamente la palette per il momento perché costano circa 14 euro mi sembra vi lascio come sempre il link nell'info box se invece volete iniziare prima con lo share la mia base vi dico che io ho fatto questa base con il fondosinta in polvere di unexpected paradise numero 2 e poi ho fatto delle sopracciglia con le percorso brow di make up revolution tornando al nostro prodotto di kiko vi faccio vedere questa meravigliosa scatolina di legno bellissima ho preso la numero 2 si chiama spiritual pink allora questa collezione ci aspettavamo no ce l'aspettavo in questi colori non credo proprio perché ci aspettiamo il rosa ma chi lo sa più che altro perché la palette doveva secondo me richiamare comunque dei colori autunnali perché un color ruggine molto bello secondo me ha un odore di legno buonissimo però in realtà gli ombretti non hanno odore anzi vi dirò di più non ha scanalatura questa palette quindi può essere un po difficoltosa da aprire e chiudere come potete vedere non ci sono i segni a un bello specchio all'interno per comunque scomodo da tenere quindi il design fuori molto bello anche interno ma un pochettino scomoda per anche sembra on the go però in realtà ci diciamo che abbiamo bisogno ci inganna abbiamo bisogno di uno specchio comunque per procedere i nostri ritocchi questi sono i quattro colori non ho preso l'altra perché ha dei colori molto simili alla holiday gems piccolina e comunque sono colori molto comuni quell'oro quindi marroncino molto belli infatti volevo prendere per prima quella però poi mi sono resa conto che di chicco non avevo preso la palette fucsia della collezione per la campagnola e quindi ho evitato questi toni perché li ritrovate e soprattutto non prendevo una palette sui toni su questi toni non freddissimi sul viola ma su rosa da un sacco di tempo tipo da quando aiutati aveva lanciato la sua palette diciamo così che l'ha fatta sfodere tutto il resto a termine da mob e quindi sono un bel po di anni perché aveva usata molto una palette di makeup revolution sui dettoni leopardati in cui praticamente c'erano un packaging esterno color oro tutto leopardato e c'erano tutti i tipi di mob che riprendevano da beauty l'ho provata un sacco di tempo e si vede che l'ho provata così tanto che mi avevano stufata questi toni e quindi ho preferito aspettare fare una pausina per riprendermi prima di tutto da questi toni perché adesso vi faccio vedere un altro prodottino che davvero molto interessante di kiko per variare e quindi stando sui toni più neutri io ho preso questa palette in cui abbiamo questi due e questi tre che sono matte questo è lo shimmer quindi stando sui toni del rosa gli swatch se li potete vedere nel profilo instagram ovviamente il link sotto descrizione non mi trovate sempre come sci.isglam allora cosa vi posso dire di questi ombretti fantastici che saremo subito un look da un occhio un look da un altro perché perché c'è una di prodotti non sono finiti lì assolutamente nel senso che io ho voluto prendere un po di novità ecco diciamo che non ho voluto prendere tantissimi altri prodotti perché comunque mi sembravano troppo ripetitivi e non avevo voglia di avere sempre gli stessi colori cioè io ho capito kiko che tu devi andare sui toni del neutro per accontentare tutti però dandomi solo quattro mega cialde di colori di tonalità tra l'altro simili in questo caso con le collezioni precedenti che magari la fruit collection va tutta una ruota con tonalità molto meglio devo dire cioè alla fine sta prendendo sempre le stesse tonalità un po rimischiate io cerco sempre di spaziare andare oltre la comfort zone ad esempio il rosa non lo prendevo da un sacco di anni perché ho detto proviamo a riscoprirlo dato che le ultime palette si concentravano sempre sui toni o marrone neutro caldo o marrone neutro freddo oppure sui toni del mauve oppure troppo sui toni del rosa oppure andava ancora su un neutro completamente diciamo asettico come insomma non so dire tutte queste tonalità tutte più sulla transizione quindi sull'occhio non si vedrebbero comunque di conseguenza ho detto poi è mai riscoprire il mondo del rosa poi per il marroncino cicatrice con l'edizione limitata estiva che sono riuscita a recuperare ma non ci ho fatto il video perché non ho avuto tempo perdonatemi e quindi adesso mi muovo facciamo subito queste questo look fantastico che speriamo di ottenere allora visto che voglio avere un look meno soft e un pelo più marcato perché comunque questo colore scuro voglio sfruttare prima di tutto vado prima con lo scuro pennello settole fitte piatte e vado a prenderlo ma spolvera tantissimo però super pigmentato allora vi dico sulla mano come funziona lo shimmer che sarebbe questo qua non si vedeva quasi per niente qui sembrava più un top coat quindi cioè non puntate su questo shimmer perché veramente rimarrete del user è più gessoso questi invece matt erano un po più soddisfacenti ma neanche tanto è comunque sto usando comunque dei pennelli che sono pesanti per trattenere molto il colore se già così si vede poco e niente figuratevi con un pennello da sfumatura cosa possa uscire ecco praticamente quasi niente bisogna sapere usare i pennelli adeguati con questo tipo di palette perché se no o si fanno pasticci oppure non si vede niente e questa purtroppo costa 14 euro quasi 15 ci sono solo quattro colori ho capito che il design è cambiato e tutto giusto ragazze e ragazzi però la qualità ci deve anche essere perché comunque ripetiamo sono solo quattro colori io ho capito che sono vegani e tutto ma sono sempre 15 euro che tu fai spendere ad una persona e poi è uscita da poco già l'altra collezione che non mi ricordo neanche più a momenti come si chiama e diventa tutto un pasticcio qua ragazzi cioè chico diamoci un attimino una mossa a fare le cose per bene perché le sai fare benissimo il design c'è e nessuno si aspettava io credo questa ripresa sul la spiritua dell'india e tutto il resto che è bellissimo però cioè se non ci abbiamo neanche un po di qualità qui ci perdiamo non si possono fare cose così di fretta di certo per parte opposta del pennello prendo l'altro mauve che non è che è più un fucsia non è proprio un mauve e questo già ti porta magari a non scegliere questi colori che sono troppo accesi quindi diventa anche difficile vedete che non si vede quasi per niente si vede proprio poco 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 nella realtà magari in camera col contrasto elevato lo vedete però io sto facendo comunque fatica se utilizzando un pennello a setole fittissime e questo ragazzi se sbagliate vi fa le macchie giusto per capire quale tipo di pennello ci vada e quale intensità vi fa insomma apparire questo trucco che è bellissimo esteticamente però se non è funzionale ma che cosa stiamo facendo giusto prendiamoci i trucchi delle bambine della barbie che scrivono di più e usiamo quelli giustamente e non spendiamo neanche 20 euro per ogni prodotto che è tantissimo secondo me per kiko scusatemi ma qui veramente a cercare un po di fallout perché il pennello vi ripeto veramente astronomico e quindi faccio anche un po di fatica ok vedete che fa anche macchia qui perché vi ripeto il pennello questo tipo di setola però diventa anche difficile sapere trattare così più di imbretti di certo con un pennello flassi fate soltanto l'ombreggiaturina appunto e basta non arriviamo oltre allora poi voglio mettere lo shimmer il nostro amico shimmer vediamo un po se abbiamo un pennello adatto diventa bello difficile allora io provo con questo qua a punta vediamo un po vedete quanto prodotto che prende molto molto forte come effetto ecco e si vede appena 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 c'è ma ragazzi ma mettiamo lo shimmer così grosso che deve essere la punta della palette e mi fa questo effetto cioè che non ma non lo vedo neanche ma non lo so ragazzi cosa mi dite voi di questa palette cioè bellissime esteticamente ok va benissimo ma oltre all'estetica non andiamo oltre prendiamola in saldo e stop non spacchiamo neanche i soldi io veramente mi sto pentendo di averla presa non in saldo perché cioè io sto facendo un lavoro che non mi sta neanche piacendo tanto perché arrangiarsi così non va neanche bene spendendo tutti quei soldi cioè poi di solito le collezioni queste collezioni qua le limited edition o comunque quelle stagionali dovrebbero avere più performance sull'occhio ecco più di così ecco lasciamo stare questa non mi è piaciuta per niente vedete un pennello a setole fittissime che fa fa soltanto fall out sotto e di colore questo è tutto il risultato che posso garantirvi per questa palette quindi preparatevi a stratificare un sacco questi colori perché sono poco pigmentati sono troppo gessosi e burrosi che fanno un fall out incredibile sono solo quattro e sono sempre i soliti quattro banali io l'ho presa perché vi ripeto di rosa non avevo tanto anzi ho poco niente ma proprio perché mi piacciono altri colori preferisco il verde sull'aranciato ruggine o i marroncini però rendiamoci conto che 14 euro quattro colori che non scrivono neanche c'è capito è bellissima scatolina però siamo un posto il banalotto secondo me non va tanto bene fatevi sapere la vostra esperienza allora oltre alle note dolenti che non finiscono solo lì io ho preso la nuova collezione la glamour multi finish numero 06 sono delle nuove palettine allora le prime quattro non le ho neanche guardate perché sono tutte sui toni del marrone e sono bellissime però comunque sono sempre soliti i colori poi c'è uno sui toni del mauve ma non l'ho presa perché c'erano i quattro colori della ritual quindi ho evitato poi c'è uno sui toni del viola ma mi sembravano molto scuri e quindi ho detto preferisco vedere altro e l'ultima è questa qui sui toni del verdolino diciamo adesso ve l'apro ha una chiusura magnetica mi sembra all'interno ci sono nove ombretti ha un bello specchietto davvero carino questi sono i colori della glamour multi finish eye shadow palette dura 18 mesi ci sono 2,5 grammi di prodotto che è pochissimo diciamo che per quanto ho fatto gli swatches e vi posso dire gli shimmer sono molto burrosi e scriventi vanno benissimo occhio ad usarli perché vi fanno un effetto in carta pecorito che non finisce più attenzione invece gli altri matt li trovo poco scriventi e tanto secchi si sfaldano perché sono gessosi io ho capito che spero che abbiano migliorato la qualità però comunque mi aspettavo qualcosa di più lo fai più cremoso e meno gessoso oppure comunque li fai più gessosi e più scriventi e meno burrosi invece qua siamo proprio a metà strada diciamo che gli shimmer sono molto belli ma poi tutto il resto viene un po' gustato diciamo allora facciamo finta di fare un altro look voglio usare questo bellissimo color petrolio che mi piace da morire giusto come contrasto l'altro occhio che comunque è venuto abbastanza bene per un trucco ancora soft io ho usato quella tipologia di pennello solo per farvi vedere la pigmentazione che deve essere tirata fuori da questo tipo di ombretto altrimenti diventa solo un macchione in forma e gessoso e non siamo contenti ci vanno determinati tipologie di pennelli oppure le spugnette sempre se funzionano con questo tipo di ombretto perché i matto soprattutto li hanno fatti molto 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 gessosi non burrosi è proprio un gesso una colvera che si accumula proprio lì quindi diventa difficile lavorarli vi macchiate, sporcano e fanno fallout per un risultato con un colore praticamente mediocre e di tutti i giorni diventa anche difficile usarle il design c'è l'idea c'era oddio i colori sono sempre banalissimi a parte questa ma quella sopra l'altra e si va avanti così ho capito che è una limited edition Kiko però quattro ombretti sono troppo banali giusto ragazzi dai allora il design bellissimo però siamo sempre sugli stessi toni sempre sugli stessi toni sempre sul tono malva 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 o l'altro marroncino nude sempre quello sempre quello sempre quello sempre quello questo video è il video lamentera ecco io vi do un'opinione perdonatemi se non so è un'opinione sincera che io ho constatato come makeup artist perché da makeup artist certificata i prodotti provandoli anche su me stessa anche cioè bisogna essere realisti non si può dire solo bello bisogna anche saper usare questi prodotti perché poi si creano i pasticci ci sono i problemi ci sono le cose che non funzionano oppure per un altro va sempre tutto bene e per forza sa usare le tecniche magari non le dice quindi questa io la trovo bellissima perché sui toni più freddi allora voglio usare questo colore qua però per farlo ho bisogno di un colore di transizione questa palestra secondo me è molto equilibrata perché c'è un chiaro c'è uno scuro c'è una transizione ci sono quelli per illuminare e poi ci sono gli altri che fanno da gioco come shimmer e si abbinano tutti il color tear chiaramente il petrolio è veramente un bonus per essere un po' più frizzantelli per dargli carattere ma come palette fredda secondo me questa è veramente perfetta ottima allora io adesso provo con un pennello fluffy questa volta perché se no non lo sparge bene il colore questo sono gessosi matte poco scriventi scusate il pennello che non va via il colore non so come mai io vi dico secondo me questi se ben utilizzati riusciamo a fare delle belle sfumature ma perché? perché sono colori scuri questo invece se non colore chiaro se usiamo il pennello fluffy si perde tutto oppure passiamo 300 milioni di volte e poi diventa ancora più gessosa poi diventa un estudo in carattia percorito diventa un pasticcio e ci laviamo la faccia perché così non si può uscire proprio invece con questi essendo colori un pelo più scuri riusciamo comunque ancora a gestire la cosa anche se sarà difficile e le cialdine sono veramente molto piccole considerate il mio pollice che sarà un centimetro e mezzo o un centimetro cioè sta appena sopra una cialdina ma appena 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 sono proprio piccole 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 e anche questa è una botta di 14 euro circa neanche pochissimo vediamo un pochino perché comunque Kiko era nato come brand low cost e adesso i prezzi sono schizzati alle stelle perché ho capito che la qualità e cambiano i tempi e tutto il resto però comunque i colori qua almeno non sono banali vediamo un po' la performance sull'occhio perché sugli svoci io sui mato ho dovuto ripassare un sacco di volte gli shimmer invece erano davvero buoni molto burrosi questo sì sui complimenti agli shimmer di queste palette veramente soprattutto per la varietà della tonalità marrone perché c'è calda media e fredda neutra e fredda e comunque si riesce a giocare con 4 paint con diverse tipologie di carnagione io invece ho voluto andare sul colore un po' più pazzo perché erano freddi e vediamo un po' com'è parto da questo che è un po' più grigetto fa un sacco di fallout guardate che roba mamma mia vediamo un po' eh sì si vede appena 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 un'ombreggiatura perché almeno con queste sono un po' più scuri riusciamo a modularli piano piano per quello non ho usato i pennelli anche di qua che anche solo questo colore messo così scusate ma qua la polvere mi sta sommergendo allora anche solo così una riga di eyeliner mascara stop oppure un po' di matita e mascara lo so del mascara è boom stop abbiamo fatto un bellissimo look praticamente duo cromatico perché abbiamo qua marroncino in transizione abbiamo la nostra palpebra mobile che è più chiara e basta abbiamo l'ombreggiatura che noi volevamo ottenere dal vivo si vede di più però comunque è un effetto molto soft molto leggero davvero molto molto gradevole così invece gli altri li avevo provati con i pennelli così fluffy niente non tenevano non tenevano assolutamente diventavano un pasticcio io spero che sia il problema solo della mia palette fatemi sapere voi poi altro pennello fluffy questo ho paura perché questo qua prendiamo l'ottagno perché essendo chiaro la pigmentazione è media vediamo un po' sparisce un po' però comunque si vede abbastanza dal vivo si vede abbastanza riusciamo a farlo reggere l'importante con questi colori è fare attenzione con i pennelli fluffy perché perché fanno macchia perché il pennello fluffy questo sparge tutto il pigmento un po' con gli altri colori e potrebbe fare una bella macchia quindi attenzione attenzione ragazzi attenzione a quello che facciamo anche perché comunque è un colore davvero poco portabile da tutti questo qua dipende come ne lo si abbina dipende se sta bene sulla nostra cremagione se è freddo se è caldo anche dalla sua saturazione e dal contrasto che vogliamo ottenere di conseguenza è davvero difficile saperlo dosare e poi bisogna conoscere i pennelli con cui usarlo ripetiamo perché solo l'applicatore non basta a volte quindi ho voluto coreare questo look che può essere anche parzialmente da giorno perché comunque è molto colorato è davvero molto molto bello da portare però chiaramente dobbiamo evitare delle macchie dei contrasti estremamente elevati con questo tipo di pigmento comunque poi volevo mettere questo però mi spegne tutto il resto del look perché non va bene allora o metto l'oro o metto l'argento per avere una visione più classica magari potrei mettere l'oro sono proprio indecita questo qui non lo voglio mettere perché questo sotto perché è più per illuminare oppure sotto l'arca da sopraccigliare io adesso ho fatto dei look comunque portabili da tutti per tutti i giorni in modo semplice senza troppi magheggi in modo da capire una persona normalmente quanto tempo ci mette e in che modo può applicare il prodotto perché come potete vedere la sfumatura si fonde perfettamente quindi qua mi piace tantissimo invece questo aveva fatto macchia coi e quel pennello è strano che possa togliere il colore in quel modo è stranissimo comunque io adesso per cambiare un po' le tonalità vado di argento perché se no l'oro non mi piace tanto preferisco con quest'altro più scuro l'oro quindi prendo il mio argento con un pennello per ora a setore piatte così vediamo un po' ecco perché questo lo voglio mettere come punto luce come un top coat diciamo non invece come uno shimmer metallizzato per fare una cut crease voglio semplicemente illuminare parzialmente l'occhio per fare uno sfumatore uniforme tra 1,2,3 e stop e questo è il look diciamo a tutti i giorni dimenticavo chiusura magnetica poi di prodotti nuovi ho preso solo questi per il momento quindi di prodotti un po' più vecchiotti che c'erano in saldo c'è questo duo on the go che secondo me è formidabile io di solito con maschera di Kiko non mi ci trovo perché si seccano subito oppure non sono adatti al tipo di ciglio che ho io quindi in questo mini kit c'è una matita per occhi e c'è un mini mascara questo è circa 3 euro e questo è l'unico mascara che abbia uno scovolino veramente comodo ma proprio di un comodo che non sporca vediamo la matita temperabile io inizio a metterla chiaramente questa che adesso non scriverà tanto perché è proprio nuovissima appena appena messa poi io lo so che non si deve tirare giù la pelle dell'occhio per mettere la matita in questo modo ma con una punta così accominata io non riesco a metterla in un altro modo non ce la faccio proprio e vi dico questa qui appena la punta diventa bella scaldata colora in un modo favoloso veramente ha un tratto veramente preciso e favoloso non è scusate il mascara adesso vola da solo non è super durevole quella matita però è molto comodo da mettere poi il mascara sono solo 5 ml adesso si deve impregnare un pochino allora questo è lo scovolino dritto 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 questo scovolino prende bene tutte quante le ciglia ma mi piace perché il colore si vede che si deposita ma comunque le ciglia le apre e le volumizza in un modo pazzesco adesso in camera non si vede tanto però fa un sacco effetto figliacinte e finte e sono sconvolta da questa maschera perdonatevi adesso mi avvicino anche un po' per farvi vedere ecco guardate qui che bello questo effetto così naturale così di ciglia proprio rimpolpate ed è solo una passata se ne fate due o tre figuriamoci che bellezza che viene fuori poi sempre per la questione rossetti e gloss allora vediamo un attimino la situazione perché qua io ho preso questo gloss ma in realtà è le magic holiday quindi una collezione precedente passata ed era il numero 02 questo colore sto cercando sul sito di Kiko una colorazione che era simile perché se voi andate a controllare sul sito di Kiko scommetto che questi due prodotti hanno perlomeno lo stesso packaging e questa cosa non mi è piaciuta per niente perché potevano o allungare o comunque prendere la stessa boccetta e almeno se ringraffati potevano fare dei loghi insomma per distinguere un po' questo prodotto adesso lo faccio vedere direttamente dal passato ditemi voi se non sono abbastanza simili questo proprio è uguale nella boccetta completamente uguale nei colori in quello che c'è scritto se non sarà simile allora a me non andava di spendere 9 euro per la stessa cosa quasi cioè perdonatemi io capisco che i prodotti si aggiornano non tutti possono avere questo però la delusione di sapere di avere la stessa cosa già comprata che chiaramente questa può essere finita da consumatore non mi ha fatto piacere perché o la fai tenere come edizione che è sempre lì quindi fissa oppure la diversifichi un pochino come esempio la collezione di Wonder Woman aveva un design molto particolare molto bello proprio tutto suo io non l'avevo mai visto in Kiko quel design soprattutto nei rossetti mettiamolo io adesso non so se il colore possa essere uguale a uno di questi in gamma perché non sono neanche andata in negozio mi sono fatta spedire l'ordine e quindi quando è arrivato ho aperto i prodotti e le provate con voi e anche un quello prima perché per fare un post su instagram e per dare un'opinione vera e sincera le cose sono anche provate però col video avete un'applicazione e proprio una recensione proprio sociale di quello che io vedo quindi io che cosa vi posso dire ragazzi miei make up lover cari questa è bellissima ma se avete questi colori lasciateli la non ha proprio senso questa collezione adesso secondo me bellissima ma se avete questi colori non ci siamo non ci siamo proprio invece l'altra palette nuove queste mi sono piaciute tantissimo perché come potete vedere è un azzurro molto soft non è violentissimo si prende molto bene anche con un pennello fluffy e i shimmer sono bugrosissimi questi nelle serate mi faranno brillare ma io ho apprezzato tantissimo che ci sono anche i toni freddi oltre che caldi e neutri e questo questo è sì questi sono soli ben spesi avete nove colori contro quattro avete più cremosità avete almeno quattro shimmer se non tre quattro contro uno potete fare più look non è monocromatico non è sempre solito rosa potete spaziare può essere sul grigio può essere sul verde può essere solo sull'argento può essere sul petrolio abbinato ad altri colori o se non avete voglia potete semplicemente fare un punto luce oro e avete il viso illuminato con gli occhi così è un eyeliner anche un mascara stop io vi ho dato anche un esempio quindi questa è promossissima poi questo kit ha solo 3,50 giù di lì è super promossissimo perché io con questo scovolino mi trovo benissimo ma voglio benissimo questo io lo compro sempre 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 ogni volta che faccio un ordine online di Kiko perché non so io il negozio non lo trovo mai ma poi non ho tutto questo tempo da andare lì quindi non ci posso neanche andare spesso questo prodotto mi ha fatto un po' venire sulla delusione perché è praticamente identico cambiando la scrittina a quella edizione lì perché si vede che è stato molto bello e l'hanno riproposto con quest'altro marchio ma in realtà era stato già preso dall'altro di Magic Holiday quindi o lo mettiamo in gamma permanente o riproponiamo un packaging più interessante o cambiamo la saturazione dei colori se è completamente identica perché se no non ha molto senso ingannare un po' il consumatore con le stesse cose non mi è piaciuta tanto la palette diciamo perché sono sempre le stesse tonalità è per quello che io ogni tanto alterno e non compro sempre marrone sempre tutto rosa perché poi esce sempre la collezione in cui o c'è il pezzo così o c'è il pezzo cosà e gli alterni quindi bisogna fare un po' attenzione con Kiko perché sono sempre gli stessi colori un po' rigirati ok io spero che il video vi sia stato utile fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di queste collezioni io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao make up lover ciao 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 ciao